E come all'improvviso siamo arrivati alla torta, uno, due, tre, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a rosa, tanti auguri a te. Auguri, auguri, auguri. Auguri! Che c'è? Non c'è la sua cosa. Che bello! Che hai fatto? Bellissimo! Questo è il bracciolo! Chi l'ha fatto? Giopetta! Bellissimo! Bello! Si è angolato! Vai qui c'è peggio! La borsa c'è peggio! Ma non mi ha fatto vedere! Non mi ha fatto vedere! Si, però non mi ha fatto vedere! Non mi ha fatto vedere! Facciamo un regalo d'oretto! Non mi ha fatto vedere! Bracciare! Che bello! Che mi passa! A me mi muovere! Ciao! 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 Ma? Ma? Tanti auguri a te, tanti auguri a mia sorella Rosa, tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri a mia sorella Rosa, tanti auguri a te. Ciao Marco, grazie, grazie, grazie. Dai, fai a te, allora fai a fatta. Tengo così che le faccio a me fotte. Inoltre, non è una gomme. No, non è una gomme. No, non è una gomme. No, è una gomme. No, è una gomme. È una gomme. Ah, è una gomme. Le altre gomme? No, le altre gomme. Il genino? Ma, li vedi tutte le gambe delle gomme. Non c'è cosa succede? Non c'è cosa succede? No, non c'è cosa succede. Va bene. Dai, mi porti. Mi porti. Mi porti. Mi porti. Batterizza ebre. Di questo il telefono? Dice che sono il vacato. Il vacato è tutto il telefono. Sì. Grazie a tutti. Per gli auguri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao Lina. Ciao Angela. Salutiamo tutti. Silvana. Grazie per gli auguri. Grazie. Grazie Paolo. Grazie a tutti. Ciao Lupo. Ciao Lupo. Ciao Santina. Ciao Santina. Grazie a tutti. 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 Ciao. Saluta mia mamma. Se vuoi si toglierci. Ora stavo facendo. Non lo ha chiesto. Io sono in diretta. Io sono in diretta. Soprò dopo sto video a ti parad. Sto video a ti squadra... ti blocco. Non te la vedere. Non te la faccio vedere. Sta Drive, non te la faccio vedere. Ancesta ha direttamente, mappa. bellissimo Buongiorno 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 Buongiorno